una parte del cast del grande fratello VIP7 senza essere senza speranza. Non è servito quasi a nulla il durissimo, pesantissimo intervento di Alfonso Signorini ieri sera perché alcuni sembrano non aver proprio capito niente di ciò che Alfonso si è sentito quasi in dovere di definire ciò che è successo una brutta pagina della televisione. Il programma si è preso le sue colpe nel caso Marco Belavia, mentre i concorrenti non sembrano disposti a farlo. I sociali hanno approvato il modo di affrontare la questione del conduttore, fino al momento in cui solo un altro ha pagato oltre a Ginevra a Lamborghini. I VIP7, quelli che si sentono VIP7, invece si sentono offesi, si sentono offesi perché sono stati rimproverati in prima serata. Hanno cominciato già durante la puntata a chiamarsi fuori da accuse come il bullismo, ma nessuno ha pensato che l'accusa che li fa uscire malissimo da questa situazione è inumana. Hanno abbandonato, ignorato una persona in difficoltà, hanno visto un uomo, che soffriva e lo hanno ignorato, in alcuni casi maltrattato, perché altrimenti avrebbe rovinato il loro gioco. Alfonso ha spiegato tutto bene ieri sera, ma loro erano accecati evidentemente dal loro ego. Appena si sono sentiti sotto accusa hanno iniziato a vedere nero forse e non hanno più capito niente di ciò che ha detto signori. Hanno subito spostato l'attenzione su loro stessi, questo sembra di capire da come hanno reagito dopo alcuni di loro. Non hanno imparato la lezione neanche vedendo che i più giovani della casa, hanno invitato tutti a stare zitti. Era l'unica cosa da fare. Sarà manfuso ha indossato la toga e ha cominciato a difendersi, Charlie Gnocchi sembrava aver capito la cosa poi a fine puntata ha rovinato tutto. Gegia è stata coerente nel suo essere insensibile, e nel non aver capito niente, come sottolineato da Antonella Fiordelisi. Ma non sono gli unici. Patrizia Rossetti si è sentita quasi offesa e minaccia di abbandonare il GFV come la manfuso, perché alla storia del voler uscire per solidarietà a Marco non ci crede nessuno. Sara voleva lasciare la casa, poi sembra abbia cambiato idea parlando con Alfonso ma chissà. Anche Elenoire Ferruzzi dice di voler abbandonare da ieri mattina. Staremo a...